le avete spese le gemmine le avete spesi i 25 mila gold per la nuova antologi bravi complimenti che affare quante carte nuove nell'historic stanno venendo giocando in questo periodo zero perza analizzeremo come si è evoluto l'historic dopo l'antologi ma come sempre anche tante altre cose perché noi siamo incapaci di mantenere un argomento per più di 15 minuti perché poi tipo berru fa le digressioni tutto un disastro e probabilmente questa puntata diventerà tipo una marcard live ma dove siamo altri vale bestie vodka ragazzacchi metri suonini già capito subito applauso non ho messo l'applauso nell'ultimo puntato mi sono dimenticato ce lo siamo fatti noi a 66 con l'amorettona sembra che sei piccolo non sono piccolo ho anche il testone sembra una magnum no è perché è l'angolo della webcam che fa che grand'angola si guarda una pinta no così sembra una magnum si esatto c'è una mano enorme anche guarda che manuola guarda il nostro grand'angolo perché siamo se siamo se siamo l'imbischittosi noi tra l'altro sembra che abbiamo un braccio rachitico più del solito è un braccio enorme in realtà al centro della webcam sono le dimensioni reali va bene basta per piacere quindi dovete mandare le foto del cazzo alla gente mettendolo al lato della webcam certo sempre le foto da sotto a sopra per esaltare no le foto scam no le foto novelle so scam devi farle perpendicolari per questo è sicuro che non ci sono e con riferimento con la moneta ma invece di parlare di cazzi è infatti questo è successo in questa settimanetta niente 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 facciamo il fattore i cantologi 4 i stori cantologi 4 è stato il ban di euro raga facciamo facciamo l'icona useless 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 avete speso 25.000 monetine male perfetto non le recupererete più mai più allora io vorrei fare una cosa possiamo fare l'altra volta che prendi la lista delle carte di stori cantologi guarda sì certo è già qua è già qua siamo già qui ci sono ci sono 24 carte vuote il mio commento su antologi è il commento del baffo moretti ci mettiamo un bip comunque c'è sempre il tribale bestie in mezzo è rutto è rutto fa goliardie antologi 4 si vergogna anche scraifolo ad aprirla eccola qui allora io mi metto nella mia consueta posizione della tribale bestie podcast ovvero con le piedi sulla partione giù di pomo a col mirretto allora e questo l'è adorned pouncer niente mai visto noi noi l'abbiamo visto in situazioni in cui non ci ha impensierito ma ma neanche in situazioni inspiegabili l'avete visto un secondo sì sì giuro vabbè giocate a silver no 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 era siamo tra l'altro siamo siamo mitici tutti e due siamo miti tutti e due abbiamo fatto non l'aderiamo mai e la mitica avete trovato qualcuno che ha giocato a dorned pouncer in diamond sì ma era un mazzo ma era un mazzo con il traben inspector e tante cartine c'era lui ha detto ho speso 4.000 gemme ma andaggia le progette ora ce lo metto io nel mazzo trovo il gatto esatto è uno così che ha detto moglie ho spese e mo c'è provo ovviamente la puntata di youtube si può sul mio rutto metti berru che fa no 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 non si fa no 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 non si fa no 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 non si fa lo facciamo lo mettiamo il bambino il bambino ciccione di declaration l'abbiamo visto anche dichiarate di cleavie per assurdo sta vedendo un minimo di gioco e voi direte perché perché è patto dei poveri siccome non continuano a non dare buon removal al bianco solo glass casket cioè fondamentalmente the nation in stone nonostante sia brutta tanto vede un minimo di gioco nei mazzi bianchi solo che cosa succede io tipo in questo periodo ora tutti mi faranno no delmo hai tradito le clave sto giocando giunto sacrifice stai facendo guarda 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 così così tac così riprendiamo ora eccole qua ecco sempre tutto non si vede niente così da tipo io sto giocando giunto sacrifice mi fanno hanno fatto declaration e mi hanno dato un pezzo da serificare per fare un danno come in david declara c'è un paio di volte di vederla si dai si è visto ma allora non è un removal in realtà così tanto brutto brutto è un patto a due sì cioè adesso non è che voglio tessere le lodi di declaration in stone però ecco è una carta che posso immaginare che qualcuno la butti dentro in qualche istra ci può stare ma è meglio si le way è meglio sì meglio si le way è meglio è meglio non giocarlo sì insomma non è una carta che vale 25 milioni d'oro ecco ma no vabbè nel succo passiamo al trabino il trabino ispettore traben si sta vedendo cioè traben nei mazzini pippolini bianchi c'è il problema è mazzino pippolino bianco un mazzo vero ok croquets ci ha fatto risultato il giorno che croquets ci ha fatto risultato l'hanno giocato tutti però dopo che l'ha giocato croquets e quindi quel giorno ci ha avuto un giorno di gloria al mono white ween e poi è comparso di nuovo io ho visto questo traben qua assieme all'altro uno uno che quando c'è un artefatto in gioco diventa 3 2 e poi con un sacco di artefattini tipo il tempered steel dei poveri sì ma chi lo gioca no anche perché adesso è una specie di gesky artefatti tipo sì gli artefatti lo giocano senza il bianco cioè giocano quello che pompa tutti gli artefatti gli ornitotteri cose che mettono noi l'abbiamo beccato izet l'abbiamo beccato non lo so non mi ricordo neanche sì sì che giocava i counter no il il mazzo quello simile affinity lo giocava izet con una cagata ma sì vabbè traben inspector è un 6 comune comune simbolino nero comune qualcuno l'ha provato diciamo e diciamo che quattro comuni potete safe craftarle esatto triomphant reconing mitica zero niente nulla nemmeno un pazzo che ha provato a farci una ciancata sopra nemmeno nemmeno gente no questa a questa proprio il mio il jank cioè non è facile mai vista zero cantrix l'ho visto perché io l'ho detto craftate qualcosa prima ma vabbè dai cioè però anche questa qua qualcuno ci ha provato qualcuno ci ha provato l'ho visto questo ma andiamo avanti dai dove l'hai visto che ci ha fatto niente questo questo moto palo io avevo paura zero non è abbastabile io non l'ho mai visto so che qualcuno nel nostro disco ci ha fatto qualche risultato però io non l'ho mai vista ma muore male da tante cose boh claim sì da claim è un disastro con con rakdos che tra i tier one claim c'è di uno del maggio più forte dell'historico in assoluto ora sto iniziando a giocarlo anch'io me ne rendo conto è troppo forte si aggiunga è il mazzo dominante allora per assurdo si ho visto più think twice di tutte le altre carte in quale sono ancora beccati o contro la storia scontro l'ho visto giocare anche magari anche solo uno per come giollino che comunque ti flashback a nei turni vuoti che stai aperto di counter che stasi qua e non è assolutamente male no ma io era quella che avevo che mi piaceva di più in assoluto tra le comuni e siamo a due comuni e siamo a due comuni ricordo la gente ha speso 4000 gemme per 8 comuni per ora ma sai che io avevo avevo una mezza avevo avuto per provare tutte le liste con le carte buffe la voglio di spendere 25 mila perché io ne ho di monete quindi le potevo spendere a caso va là che mi sono fermato perché sì la curiosità di provare qualche carta ce l'ho avuta ma poi in realtà nell'arco di qualche giorno è sparito tutto sì ma perché è tutta una merda ammite eterna zero si ammite eterna mai visto ammite eterna ecco lo zombie cocodrillo demone è nulla lo zombie drillo che mai visto mai visto ed è scato la stanno provando c'è il flop bellissimo ancora molto poco incisiva secondo me l'ha d'acciato io allora quando allora poco incisiva ma sì allora il primo giorno il primo giorno quando è uscita che ho guardato te giocare con i mostroni verdi tra l'altro mazzo carino divertente ed era uno dei motivi per cui avevo voglia di craftare qualche carte per andare a spaccare le terre del loppo e intanto vedevo visto un paio di stream adesso non stiamo a fare i nomi niente che lo provavano e tutti convenivano con il fatto che ti devi troppo suicidare ma io quando cioè tutti infamati con sta death shadow e quando io ve l'ho detto l'altra volta ma questa carta qua è una merda vabbè adesso quando io quando io non è che abbiamo detto tutti che era forte ho detto tra tutta sta merda la death shadow è una carta su cui potrebbero nascerci delle meccaniche io l'avevo io quando ma perché ma perché tu allora te devi metterti in quest'ordine di te tu cioè radi al suolo comunque e per per calcolo dei numeri ogni tanto ci prendi capito perché tu sei tappeto sempre non è vero non è vero io ho detto che death shadow quando c'è stato l'hype di quando è uscita neanche i tempi di zendikar tutti che con zendikar uh death shadow fortissima una merda ha trovato gioco in modern perché in modern c'è un pool di carte esageratamente grande ma i stori abordenai al esatto intorno a un'altra un altro parco e timur battle rage in historic un'altra cosa in histori ti devi accoppare per farla scendere 3 3 se dall'altra parte c'è un delmo che ti guarda si mette a ridere e ti tira una fiocina di di un ember cleave a caso tu dici forte the shadow mi piace questo utilizzarmi come ma sì ma perché ci sei tu ma fondamentalmente non hai pensato anche tu la stessa cosa tu delmo quando vedi uno che si autosuicida con tutte le terre che entrano in gioco stappate ti fanno fulmine le bolt land quando vedi uno che ti parta con tre bolt land e al terzo turno è già a nove con dei danni fatti da se stesso cosa sei contento o hai paura perché stai dicendo cazzo sta per arrivarmi una dead shadow da 8 sono felicissimo se tu se vedi l'altro che a tre stappi stappi lo spumante io guardavo anche oggi stavo guardando un in streaming sul sul discorso stavano giocando chi era esca mi sembra stava giocando vampiri ne ha beccati un paio quando questa scende che la che ti viene giù anche 8 8 per l'avversario è tardi tu lo guardi dici vabbè io ho due fatal push un sacrifichino è un removal che tra l'altro sta è un removal che tra l'altro sta sotto a no scusate è una creatura che tra l'altro sta sotto a tutti i rimuoli del formato perché dici cazzo fa più male gargadon perché io con fatal push me lo spazzo al culo cioè gargadon mi dà più fastidio sono d'accordo sono d'accordo ma guarda quando l'altra volta io dissi è una carta da cui potrebbero nascere delle sinergie vero è che il formato in cui è stata tier one le dà un altro parco carte intorno completamente è quello cioè il discorso è in historic te hai lasciato e poi resta il mazzo una merda oppure te hai lasciato in un vero l'ho provato tanto anche shadow e poi mi sono reso conto e togliendo lasciato e facendo un mono nero che non si suicida ma vince le partite è molto meglio esatto ma non ero a carte forti in questo momento peraltro ecco parlando di mono nero si può parlare di un'altra carta dell'antology che è un successo secondo me che è blink mot nexus stavo dicendo feste potere ci vuoi andare diretto no no dopo vabbè che è fate of the devoted the torment of scarabs due carte fortissime che ovviamente vi giuro raga non so che cosa fa non l'ho mai letta non la voglio leggere neanche questa volta è una è una carta forte dal limited ciclo ok è torment of scarab è la è la l'artefatto di di caldheim versione incantesimo giusto si è quattromana passo è la lanterna si è quattromana passo sì passo è no torment io l'ho vista non esiste ecco che cazzo di qualche carta è una carta l'ho vista dal limited forse l'ho vista dal limited ciclo d'accordo sentivo che ne parlavate no no ero ironico 1 2 ero ironicissimo ma cos'è anche questo oso se anche questo ci ha provato l'ho visto in qualche mono red se questa fosse stata swift spear forse magari invece di menas fosse stato prowess questo 1 2 e rapidità magari forse monorosso burn ma no sai qual è il punto che sono tutte carte che ok dici vabbè a parte quelle più in alto e altre dici non è brutto però non è brutto in storie non vince in questo momento tu devi devi andare il problema è che te dici non è brutto ma questa non è una non comune che trovi in una busta di un set che è uscito questa fa parte di un antologi di carte fisse che paghi 4000 gemme sì esatto dovevano fare qualcosina di più dai vabbè dai dammene meno ma tutte forti dammene meno ma tutti giocabili dammi quattro carte istorica tanto se o tutte le storie allora l'antologi con più carte giocate è stata quattro carte o cinque carte in ogni antologi se ne gioca tre o quattro mi fai quattro carte forti in un antologi fai antologi cinque fulmine brainstorm berserk e e path of tie e path of exile basta non ho bisogno di altro hanno riempito dei buchi in un antologi di cobbling guide maledetto allora questa qua io l'ho vista giocare comunque è uscito è uscito il boros equipment sì è uscito nel senso andavo via qualcuno qualcuno si inventa di giocarlo sì ma è come la dead shadow tutti la tutti si sono inventati di giocarlo dura un giorno sono tutti cose sono tutte cose che la gente siccome ha pagato 4000 cazzo di gemme si impegna a far funzionare ma dal tier 4 non escano quei mazzi cioè beh comunque io ho visto comunque bastini quelli col berserk che guadagna più due più due per ogni equip con questo caso qua con la con l'ascia l'ascia accetta l'accetta con l'embercliffe così un boros giocava addirittura la la rara bianca cos'è la la grucetta no la rara bianca rossa a kaji a kiji cos'è quali dici magari ecco quella lì che tutti le creature che abbraccano equipate peschi io ho provato boom splitter ma il gattino gatto completamente in giocata un meme allora questa qua anche questa qua in grixis che è diventato un mazzo presente soprattutto in in best of one si sono inventati di giocarla in un controllone che ti tira il la miticona la miticona che ti fa perdere dopo tre turni che era quello di cui avevamo parlato noi sul fatto che il donate in questo caso non è donate ma è harness offering ti scambia con una carta che ti fa perdere quello lì ok non ho detto che è il mazzo più forte del mondo però è sicuramente una delle carte che ho visto giocare di più perché si sono inventati di giocare un mazzo control a base praticamente è un è un control che in più usa lo splash di rosso per darti quella carta lì che a te ti fa gioco e poi te la tira quando è troppo tardi questo è un dai lo spettro di una vecchia vecchissima meccanica che è stato un tire one potentissimo quella con donate si boh vediamo si sta giocando allora bisogna capire anche su che target di riferimento stiamo facendo perché se te mi dici si sta giocando bisogna capire il tuo si sta giocando contro il mio si sta giocando nel senso in ladder anche in mitic puoi trovare il tizio che fa il simic mutate cioè nel senso e te lo vedi dici si sta giocando io sto dicendo ci saranno degli scc sistoric adesso secondo te qualcuno porterà offering no credo non lo sono in generale non è mai piaciuto a magic in generale giocare carte che funzionano solo se vedo una sola altra carta del mazzo però allora nel concetto di control è come è come giocare a vento del secondo second sun cosa quella fa una combo da sola non ha bisogno di un'altra carta quella lì esatto in questo in questo control qua adesso a parte il fatto che probabilmente l'arma nel suffering non serve neanche tanto però nel senso in questo control qua che ho visto giocare un pochino comunque grixis è andato un po più su assieme ad esper insomma come mazzo control col fatto che ci sono comunque le varie ruin dai come stiamo tutti gli incantesimi le rune dici di calda a parte le no le la ruin quella che ti fa sacrificare un permanente attorno dai quella che si gioca in esper anche in tipo 2 doom for told doom for told ah doom for told sì rovina pronunciata ruin doom for told col fatto che ci sono un po di robe che rimbalzano non rimbalzano escono non escono quell'incantesimo lì che fa quattro cose demon pact demon pact e che ti fa perdere alla quarta ha avuto è stato un po più presente ma io non capisco il tuo target il campione che prendi riferimento a te questo non sto capendo io no 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 non sto dicendo che si vede sempre sto dicendo che ogni tanto se è una carta che si è vista giocare più di qualsiasi altra poi che il mazzo per adesso nell'antologi 4 ma allora io davvero non capisco il punto di riferimento cioè io io dico se mi dici che l'hai trovato due volte nella scalata al miti che ci posso anche crede ma è bel è ben lungi da dire è un mazzo che ha visto gioco cioè se vai a vedere le 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 statistiche di un tapped ma infatti sono già qua guardamo perché adesso se noi andiamo a vedere i stori li guardavo oggi se tu vai a vedere totalmente perso se tu vai a vedere persa se tu vai a vedere il meta del di stori le carte entrate in antologi 4 nell'ultima settimana ecco mi dite dov'è mardo doom foretold offering cioè ad esempio ti prendo a zori sconto c'erano c'era qualche grixis che si era visto fare qualche risultatino ah era il grixis e il turbo tibalt ma è stato anche quello è durato un giorno sì sì ma io ho detto giocate in quel senso lì che ha visto quell'attimo di gioco ad esempio sempre per il discorso del fatto che qualcuno ha comprato le carte e le ha provate tutte non che non che questo è un mazzo contro il buono questo stiamo sfogliando gli azorius contro ad esempio incontro non vediamo né il quella che esilia che abbiamo analizzato prima no però allora se noi vogliamo pensare ad un acquisto di 4000 gemme o 25 mila monete e pensiamo a che impatto dai ai tire one tire 2 del formato quello è fallimentare vai sulla schermata normale il piacere zero nulla vai il fizzero art di antologi tanto li sono a memoria lista mettimi tier il fizzero art di antologi bronzola atti solo direttamente atti mitic 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 ecco ma storia va bene lasciamo il best of one giunto zero carte nuove esatto per nuove intendo antologi ma non red zero carte nuove esatto bianco nuove vite zero carte nuove anche se non è un mazzo ma vabbè si parla di questo one monogreen zero carte nuove zero carte nuove azorius zero carte nuove angeli zero carte nuove esatto effetto quindi impatto sul tire one zero al momento zero quello che dicevo io sono usciti è tornato azorius control è tornato mono red burn è tornato giunto perché perché storia cantolo g4 è stato l'uscita di uro non l'aggiunta di 40 art si si esatto banzai john sacrifice or the virus niente bant angels niente allora ordo vaura qualcuno se non sbaglio inside c'è declaration in stone perché tanto aura fa tutto nei primi turni così mi fai un cazzo di datti una carta in più perché tutto ammazza qualcuno nemmeno tutti cioè l'ho visto forse giocando qualcuno magari l'ha voluta provare ecco ad esempio nessuno di questi vedi sì 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 è beh ma no però era per dire nel senso ma al massimo quel palo di merda bianco è stato giocato lo scontro niente sul tale ragdos shadow attenzione ragdos shadow sì ma vedi con l'ottima 51 per cento di win rate ottima l'ottima giusta giusta per il mythic mi dite 51 per cento è un mazzo 51 per cento è un mazzo assolutamente no però è un 51 per cento che in molti hanno provato a giocare per arrivare lì dove stanno esatto praticamente qui solo perché è stato stra provato infatti è l'ultimo mazzo dei tier l'ultimo e poi comunque c'è ai dati di oggi piuttosto che quelle robe crattatevi quattro rare se volete giunto continua a stravincere tu dai torna su sulle cose che andiamo a sdoganare ste cagate quello questo niente inesistente eh demolisher tu ci hai provato il ponza io ci ho provato il ponza è un mazzo divertente ma non è competitivo ok ma un mazzo che ci può fare mythic tranquillamente perché sicuramente il 51 per cento nello shadow lo fa ma non può esserci spider spawning in un antologi che vuole fixare un formato a 25 mila monete d'oro spider spawning che cazzo di carta è sta qua ma si avesse stiamo a ragionare così allora le eliminiamo tutte ma è proprio lì il discorso che stiamo facendo ma hanno messo della roba per stato trovato selesnia counter perza guardiano qua meme 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 perza guardian of antologi guardian of perza collected conjuring saluto ovviamente all'inventore del perza certo l'ottimo jack che poi l'inventore perza non è c'è è jack però è nata in un momento in cui c'ero anch'io quindi ho tutti i diritti per dirlo poi puoi sdoganare ponza è un mazzo giocanare storm vinza perza abomination ecco lano ecco abomination of lanoar richiamata ora abomination dei 100 celle è un'ottima aggiunta in 1 2 per all'elfi coco quello splesiato di nero per il best of 3 perché lo caghi è tipo un 11 11 di terzo e non fa schifo non fa schifo però magari però è magari volerlo giocare per forza io l'ho provato ho preso la lista di akira ci ho fatto un paio di modifiche tra cui l'abomination e fa effettivamente questa ad ora siamo a 8 comuni e 4 non comuni vediamo se arriviamo a 4.000 gemme bon splitter siamo sempre lì si è vista bon splitter nei mazzi super aggro soprattutto in best of one qualcuno la inserisce nei vari mazzettini e comunque comune grande nick si anche questa è un'altra comune co di sart questa qua si è entrata è entrata dentro i mono brown si mazzo sassi è vero questo mazzo sassi è un tier 4 quindi anche questi in spai all'instagram però allora anche lì mazzo sassi tier 4 ma in mythic io l'ho già beccato più volte si ma è comunque un tier 4 nel senso nessuno ti obbliga a non giocarlo quindi in mythic puoi trovare anche il tizio che si ostina a giocare ancora a merfolk allora calma aspetta un secondo noi stiamo parlando di mazzi che vincono o di mazzi che sono presenti in mythic di mazzi in meta che vincono beh in meta in tier quindi quindi mazzi non che vincono tier 1 e 2 io allora no allora no lo intendo per il meta cioè tu comunque metti un pool di carte con l'intento di fixare il formato a 25 mila gold che non sono pochi e cioè se questa anthology era una roba che la regaliamo ai primi mille che aprono oggi il negozio bene figo ok tanta fuffetta le ho prese così però cazzo mi fai a quel costo lì un pool di carte che vuole fixare un formato non c'è nulla che stia dentro tier 1 e tier 2 quello dico io è amon cat remaster è uscito kaladesh remaster te dici ok di kaladesh remaster 5,6,7 carte sono entrate in tier 1 e tier 2 ok e dici eh ci sono un sacco di altre carte che possono essere usate per fare mazzi buffi mazzi che magari vengano provati vedi marvel tutte queste cose qua no se te ne frega un cazzo perché comunque fa parte di un'espazione grossa che ci sta a volte anche giocare un tier 4 per divertirsi o una totale merda per far due risate ok ma fa parte di un set globale acquistabile o bustine draftabile e tutto il resto se te mi fai spendere 30 euro perché 4000 gemme sono una roba come 30 euro se te mi fai spendere 30 euro di carte singole nette playset non mi puoi dare 25 carte di cui se ne gioca 0 nei mazzi tier 1 0 secondo me non le puoi buttare a cazzo di a perché io non capisco io guardando queste carte io non capisco che cazzo di ragionamento c'è stato dietro per la scelta cioè io vedo carte a caso sì sì ma a caso ma anche negli altri antologi c'erano delle carte a caso completamente a caso spalla fortissima allora vuoi fare una cosa come antologi allora guardi il formato com'è adesso e dici o faccio uscire una carta che entra di prepotenza nel formato proprio cioè fuori di testa jace capito dici ok azorius e lillia essere tier 1 jace demice sculptor vedrai azorius diventa tier 1 cioè capito mi fai sto ragionamento b oppure non lo so mi dai una roba tematica che praticamente 20 carte i playset fanno un mazzo cioè mi dai tutti tra mutanti capito una cosa del genere e mi fai entrare tra mutanti di prepotenza nei tier historic si vedi che cina dice è stato usare poco carte vecchie strapabili come shadow infatti l'hype di certe carte io quando ho detto che certe carte funzionano solo perché sono belle da vedere era quello il concetto io l'avevo già visto l'hype per shadow quando dico shadow è una merda e oh no ma perché poi è diventato no allora shadow ha fatto la stessa figura di quando è uscita in zendikar che tutti la volevano e poi l'hanno buttata via shadow è forte in determinati formati esatto in un formato in cui c'è un pool di no due 25.000 carte in due formati anche in tre volendo cosa intendi modern vintage vabbè ok quindi tutti early set il legacy la giocano adesso il legacy è un tier e raga tra modern e legacy ok modern ha vinto un pro tour cioè è un mazzo in modern è forte e ci siamo ok shadow è una carta forte da modern perché ci sono le carte per supportarla e così via questo non vuol dire che è forte in historic in historic fa ma cazzo c'è ma ci sono altre carte intorno ci sono completamente l'avevo detto l'avevo detto l'avevo detto il povero a giocarla ma ok mentre ecco blink parliamo del discorso spade per esempio anche per esempio le spade sono fuori contesto prendiamo un esempio per fare anche un attimo capire quello che stiamo cercando di dire se adesso mettono K di profezia del sensei e counterbalance non è la stessa cosa che in un fermato dove non ci sono le fetch eh certo capito? non è la stessa cosa solo che io ci scommetto che se adesso al posto di metterci spada o di metterci shadow mettono K o K in oi in historic allora ha fatto un esempio giusto garbe ravager arcbound ravager fa schifo fa cagare verrebbe aiutata a merda e fa schifo al cazzo se la giochi ora in historic avrebbe fatto lo stesso effetto se al posto di di shadow ci fosse stato ravager la gente avrebbe sborrato comunque nelle mutande all'annuncio esatto ma poi sarebbe rimasto lì avrebbero fatto tutti il turno se invece fanno una follia che per follia intendo historic cantologi 5 comprende arcbound ravager le terre artefatto discepolo della volta frogmite cioè capito? se fanno una roba se dici sono fuori di testa perché a quel punto affinity diventa tier 0 però avrebbe un senso spenderci 4.000 gemme si 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 comprando un mazzo cioè capito cosa intendo ma infatti speriamo che una cosa del genere non succeda mai ma io credo che non succederà mai è quello che sto intendendo io nel senso allora il discorso per la spada è un po' diverso il discorso per la spada è che quello che intendo io è che una spada potrebbe avere gioco come dicevo un 1-2x magari in qualche serie si può giocare perché è una carta che è forte però se non trova gioco se non trova gioco amen se non trova gioco amen ma andare a vedere dei 4x di carte che manca appena quella sopra che sono considerate forti che sono considerate forti in formati dove il pool di carte è infinitamente più vasto non è la stessa cosa ma è quello che dicevo io prima cioè il discorso è una carta il discorso è una carta forte ma se non trova gioco amen mi sta bene nella rara o nella mitica di un set non di un anthology perché se te questa carta è forte ma non trova gioco amen trova gioco amen il cazzo perché io sto spendendo 4.000 gemme esatto cioè il punto è che nessuna carta di queste è una carta che va a rinforzare una meccanica o un archetipo nessuna sono tutte dammi falcherrata aristocrat per rimanere in figa in tema con Amarcard esatto cioè voglio dire esatto allora esiste un archetipo che può essere Rakdos faccio l'aristocrat cioè do una carta forte che rinforza un archetipo che peraltro andrebbe in side dal sicuro se uscisse aristocrat in un anthology andrebbe in sideboard sì perché aristocrat era una carta forte nel suo contesto poi vabbè la buddy and mind sembra veramente una memata perché è appena abbannata la carta blu verde più forte di tutto il formato e poi mi dai la spada che protegge dal blu verde è protetta da Nis è protetta da Krasis ma vedi anche la spada la spada è fortuna ma io facevi mazze intorno alle spade all'epoca per dirti quanto le adori però però è bravo era lì che voleva arrivare c'era un contesto questa spada non ha un contesto dove diventa un pezzo forte io vedo io vedo il tavolino dei bimbi wizards che dicano diamogli una spada vai va bene quale feast and famine no troppo fire and ice no troppo war and peace no come si chiamava quella brutta body and mind body and mind diamogli body and mind che non è mai stasera nessuna parte mai nel senso questo è proprio il disco io percepisco la presa di culo io guardo sword of body and mind e dico hanno voluto mettere una spada per creare hype hanno voluto mettere la spada peggiore per non rompere il formato che cazzo ce l'hai messa a fa ma dammi una non comune giocabile ma dammi bte cioè secondo te qual è la spada più forte che avrebbero potuto inserire feast and famine perché è la spada più forte in assoluto e basta in generale di sempre però le spade io ripeto che roba è anche feast and famine però le spade non avrebbero un contesto adesso cioè ok feast and famine feast and famine lo crea cioè il problema di feast and famine è che diventa il contesto è come rilanesco le spade sono uscite in un meta dove c'era la mistica forgia pietra cioè sono state sbroccate per quello le spade sono uscite in un meta dove c'era un tutore per le spade potevi giocarti tutte le cose potevi metterci una butter school una spada a tua scelta un'altra spada a tua scelta un'altra spada a tua scelta e una gitte mettevi cinque carte forti in un mazzo dove c'erano quattro carte che te le tupiravano e te le rendevano incounterabili quindi è un'altra cosa gitte sarebbe stata una sbroccata gitte è giocabile secondo me stavo per dirlo prima nel gruppo poi ho detto vabbè lo diciamo in serata quando voi stavate memando le spade che io stavo per dire oh ma siete incontentabili cosa ci dobbiamo ammettere per farvi contenti gitte infatti sapevo che gitte vi avrebbe messo d'accordo comunque potrebbe essere contestualizzata anche war and peace perché farebbe un sacco di danni allora e farebbe una bella forbice sempre ragionando war and peace sarebbe forte ma costa un po' allora il discorso qual è lo sapete qual è un epipaggiamento che potrebbe tranquillamente entrare in historic non romperebbe niente ma forse potrebbe creare un archetipo giocabile gitte cranial plating cranial plating cranial plating io mi dissocio vado via ma allora mutate mutiamo il dermo allora cranial plating potrebbe dare un senso al winnie al winnie monobrown quello stile ma non sarebbe troppo forte perché non c'è affinity ah ma no ma aspetta 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 ma te dici cranial plating non school clamp io pensavo school clamp no no school clamp è un errore ok cranial plating sì sì la pacca cifra cranial plating se non è a base nero non puoi spostarlo instant ecco guarda piuttosto batter se fai un orzo mono artefatti ecco guarda con tempered steel e cranial plating potrebbe diventare un agro quasi forte io guarda cina ha detto una cosa giusta allora cranial no pillola di Amarkar butter school è stata la prima e vera propria equipment che si auto equipava che si auto equipava è vero è stata la prima living weapon la prima living weapon è stato il primo equip che si auto equipava non perché si auto equipava su quello che volevi ma perché faceva pezzo faceva pezzo è vero però ad esempio ecco butter school è col fatto che mette pezzo e si equipa e comunque di fatto è una creatura potrebbe aver senso in un control che lo gioca per riprendere vite perché si rimbarazza allora butter school senza mistica fosse stato in anthology sarebbe stato giocato secondo me sì inside contro l'altro sì sì butter school aveva più senso no no ma neanche non inside butter school è una carta che ritorno su di vite che gioca che gioca bene nei control costa 5 è vero è un 4-4 costa 5 e si rimbalza con 3 con 3 lo riprendi in mano che è la cosa forte e mette in gioco un 5 e un 4-4 vigilance lifelink e trample vigilance lifelink vigilance e lifelink con 5 un 4-4 vigilance lifelink quando lo troppi lo troppi contro Jund contro Grul sei felice sì perché comunque è un pezzo che ritorna poi tu rimbalzandolo aveva il gioco che lo potevi buttare al macello poi te lo riprendevi in mano rifacevi pezzo era molto controlloso sì perché moriva in realtà moriva la creatura e tu te la riprendevi in mano butterscala sarebbe stato un'equipo di quell'epoca più sensato anche se era forte perché butterscala scendeva instant con la mistica sì quella cosa lì si andrebbe a perdere butterscala turno 3 cioè tu con la mistica con la mistica mistica senza butterscala cioè mistica e basta in anthology mistica è forte sì secondo me potrebbe starci adesso ci sono degli equipi forti però di secondo droppi Embercliffe fondamentalmente di terzo però in Boros equipment andarti a prendere in mano Maglio andarti a prendere Embercliffe ma lo mette in campo lo mette in mano lo mette no quando scende fa tutore quando scende te la mette in mano e poi dopo tu la casti con un'abilità e quindi lì praticamente di terzo di terzo 3 droppi instant Embercliffe a fine turno avversario senza dover attaccare e poi la giri il turno dopo però lo giocheresti lo giocheresti in un masso con del bianco con una mistica quindi Embercliffe secondo me è molto forte nel contesto del mono red o comunque di massi super aggro mistica adesso metterebbe giù con l'abilità degli equipment che si equipano automaticamente tipo Maglio sarebbe molto forte in Boros equipment eh mistica cioè ci starebbe secondo me sì sarebbe una carta d'antology figa perché non rompe niente ma potrebbe creare un archetipo nuovo ma non rompe niente e soprattutto vedrebbe gioco non rimane lì a morire io vorrei delle carte 8 ve lo giuro io vorrei delle carte 8 storica ha bisogno di 8 cards non ne ha abbastanza ma anche più 8 cards intendo per esempio quella merda di cavaliere protetto dal bianco avete presente quello di Lorwyn porca miseria quello spasciato bianco e nero io secondo me storico ha bisogno di 8 cards sì ha bisogno di quella roba lì sì soprattutto adesso che ne è appena tolta una molto forte c'è Seratop c'è Apostolo e non mi viene in mente chissà che altro c'è Serulian Drake per il rosso che però non fa poco perché è troppo piccolo quei cavalieri lì di Mirodino erano forti ma anche solo se ci avessero ridato che so Trun cioè il paladino o quello protetto dalla rossa e dal verde come si chiama il paladino no il il Miran Crusader c'era Miran Crusader lui sarebbe figo in un antologio era forte era forte quello nero che era protetto dal verde dal bianco gorilla di kird no sì sì il 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 Miran era protetto era protetto da verde e nero quello nero che era Pyrexian Crusader Pyrexian Crusader era protetto dal bianco e dal rosso ah quello aveva Infect quello lì attacchi improvvisi Infect no Infect non deve vedere Historic nemmeno da lontano ecco per dire parlavano di meccaniche nuove se vai a i bogos se vai a a frugare da quell'epoca l'acqua che vai a prendere la spada potevano ributtare dentro la meccanica anche solo Metalcraft non so con la Galvanic Blast con Pure Steel Parding ci sono un sacco di carte che nel passato hanno visto gioco che non romperebbero niente ma sarebbero giocabili c'è anche da fare la considerazione che ce ne sono tanti di artefatti già ci sono i monobramo che funzionano con i Karn con il il trono no il trono no quindi il trono no dare a mettere degli artefatti è sempre bisogna sempre entrare nell'ottica che un artefatto sposta più di una carta di una carta colorata sì cioè questa è una cosa che come le terre artefatti e terre spostano di più che carte situazionali con le situazionali intendo carte culla di gea e accademia di tolare anche se in realtà allora facciamo una riflessione insieme qua culla di gea culla di gea e accademia di tolare se ci dessero il trono culla di gea va dentro solo a elfi elfi ti sembra poco tanto fa schifo elfi opposition vai ma no non è che non è che non è che fa schifo ma non non cambia niente cioè dai una carta forte è un mazzo che è già forte aspetta voglio voglio fare questa riflessione vedere ma ci sono non mi sentite posso chiedere una roba allora se ci dessero se dessero il trono ad historic eh fine fine dell'historic giocano tutti i trono ok però allora tron in modern ha a certe carte intorno al trono si c'ha karn c'ha c'ha karn a emrakul a a tutte le cose verdi che vanno a prenderli alla mappa che va a tuttora le carte trono cioè in historic sarebbe così sbroccato il trono trovi il modo di renderlo sbroccato cioè in generale avere sette mani di terzo non è non è normale non non mancano le terre che spaccano però il trono eh si ho capito però se io di terzo eh ti faccio cioè anche soltanto statua sei nella merda si si infatti adesso ti presenta la statua god far out anche se lo stato hai finito di terzo non hai bisogno di karn ma adesso aspetta ma perché adesso già monobrown che va a prendersi quel cazzo di robo che raddoppia in mana delle carte e poi dopo va stappa tutti i permanenti non terra o le terre quando giochi una roba guadagno vado a 50 vinco la partita già così ok non è un tier 1 e non è un tier 2 e non è vincente ma quella strategia lì se fosse accelerata da trono sarebbe un patema eh beh monobrown adesso però non è il mazzo da battere eh ho capito ma se gli metti trono dopo allora parli di carte che impattano il formato ok eh ma deve impattare ma non diventare una roba che poi dopo non puoi più giocare perché dopo contro un trono così che al terzo turno ti fa carne più robo più cose a caso vado a prendere un pezzo da fuori lo metto giù dopo tu come fai per counterare una roba del genere più che altro si ti fa Ugin di quarto eh vabbè niente no sto ragionando facciamo ragionamenti insieme allora Ugin di quarto e Demra cool di terzo bene o male sono le stesse cose cioè non è che quel turno non ho capito trono di terzo ti fa forse che monumento e poi altri due mana che gli avanzano per fare mindstone un altro pezzo del turno dopo a undici mana appunto si trono in brown fa Ugin di quarto potrebbe fare dei danni no no non fai solo undici non fai solo Ugin di quarto di quarto fai Ugin e Karn se vuoi sì vabbè ecco ma trono secondo me è difficile perché già in modern ha squilibrato tanto secondo me non portano quell'errore dentro historic no ecco fulminator mage sarebbe un'ottima carta per l'historic ecco la crepa che volevo tirare che come dicevo oggi su whatsapp prima della puntata per me adesso non ruberebbe neanche Jayce the Mines culture in historic track track Jayce non sarebbe troppo forte oh ragazzi cioè historic è un formato come quando in modern hanno deciso di sbannarlo cioè è un formato in cui a turno 4 sei morto voglio che la gente che ci guarda veda le mie facce quando voi dite queste cose no Jayce non sarebbe troppo forte in historic allora tu tu vai contro elfi di quarto fai Jayce cosa risolvi tu vai contro mono red di quarto fai Jayce vai contro brown di quarto fai Jayce cosa risolvi contro jund di quarto fai Jayce cosa risolvi fai la stessa cosa di azorius in più gli dai Jayce vai a rinforzare un archetipo vabbè ho capito allora allora se la paura è di giocare contro elfi rifacciamo incinerate plug e siamo posto no ok allora è quello che dico io quello quello devono fare in un antologi cioè quello che dico io se mi dai Jayce a me mi sta bene perché Jayce verrebbe giocato e non rompe niente è quello che dico io adesso io non so quante di queste 80 persone che ci stanno ascoltando è d'accordo col fatto che Jayce non romperebbe assolutamente niente però allora sono sempre quelle carte che fanno gioco da sole c'è una differenza tra una carta forte perché sinergizza con un pool di carte e una carta perché è forte da sola io prima ho preso K e potevo prendere un qualsiasi altro esempio di una carta molto forte perché è forte perché ci sono le fetch perché ci sono le cose perché c'è brainstorm perché c'è brainstorm anche dove c'è K c'è brainstorm e quindi quella è una carta che è forte ok però è forte in un contesto Jayce è forte e basta Jayce è forte da solo Jayce è forte e basta non ha bisogno di altre cose è una carta forte avrebbe un senso giocare non è imbattibile Jayce Jayce non è una carta imbattibile adesso in historic secondo me allora cioè allora no se te fai Jayce passo e io ti faccio quest in vista è morto Coco fine turno faccio Coco non è che se tu fai Jayce io faccio Coco vabbè ma Jayce vabbè Jayce morto esatto ha ragione anche for T2Nine non c'hai le fetch per sfetchare dopo aver fatto lo zero no è vero è vero le carte che sposterebbero di più in assoluto sarebbero ovviamente carte come fetch le fetch o carte che ti vanno vabbè ovvio che fetch e brainstorm sono delle carte che insieme cambiano cambiano molte cose cioè il concetto è vuoi fixare un formato tra delle carte che rinforzano gli archetipi cioè il problema è che così ci stanno abituando che le antologi non servono a niente ma scusa però allora tutto questa roba i set remaster fanno tanto differenza le antologi nulla io non lo so il problema qual è e dove voglio arrivare io ci volevo arrivare più lontano ma ormai il discorso è andato lì allora lo dico subito volevo dirlo come chiusura se le antologi fanno schifo quale sarà il motivo per giocare historic quando ci sarà pioneer allora è infatti probabilmente allora una cosa che potrebbe sembrare è che non non ci diano quelle carte lì per mantenere storico un formato che vuole essere differente da modern eh ma poi diventa pioneer così se le antologi dovrebbero essere quello che in futuro differenzierà l'historic dal pioneer quando ci sarà pioneer su arena io sono se gli historic gli antologi fanno schifo al cazzo io sono un ignorantone sono un ignorantone mi definite pioneer il più piacere pioneer è da dalla prima teros in su giusto dalla prima teros la prima espansione di pioneer è teros la prima teros è dalla prima teros in su quindi è praticamente un esteso sei anni molto esteso sei anni dal return dal return dal return da ravnica ravnica ah ritorno to ravnica ok aspetta ritorno to ravnica quindi c'è il death rate shaman si giocabile quindi allora scusate chat è un esteso chat allora pioneer è uscito 2015 c'è shaman pioneer è uscito pioneer è uscito in lockdown sottolino che domande che vi sembrano stupide perché io non ho mai giocato pioneer cioè non mai giocato mai fatto una partita di pioneer quindi l'esteso era sei anni di magic quindi pioneer è uguale all'esteso ok adesso io ho focalizzato che quando uno dice pioneer però l'esteso era era rotazione si ma erano sei anni ok pioneer non ruota pioneer cioè tra dieci anni pioneer sarà 15 anni di magic ah ok 16 anni di magic ok ok cioè è un eternal non è rotazione ok ho capito non ci sono più formati a rotazione esteso è un vecchio formato perché non lo sapesse che non esiste più erano gli ultimi sei anni però ruotava ruotava di sei anni si era uno standard era stupendo blocco è un anno standard due anni esteso sei anni e blocco era un anno blocco era un anno quando esisteva blocco quando esisteva blocco blocco era un anno bello blocco standard due anni e esteso sei anni tipo è vero è esistito anche blocco è vero e poi c'era beh si blocco era una i tornei erano anche a tre a tre formati si si tornei di team infatti è quello tra 15 anni ci sarà un altro formato che magari inizierà da x all'anno si perché ogni tanto prendono un una serie di espansioni e le fanno giocare in un formato e quindi praticamente scusa la tua riflessione era sul fatto che quando mettono pioneer allora hanno dichiarato che i set remaster che stanno facendo servono a inserire nel pool di carte di arena via via set dopo set tutte le carte per poter fare pioneer su arena quindi pioneer adesso da historic che cosa manca tanto ancora si perché tu sei a tu sei a caladesh che è praticamente negli anni aggiungeranno sempre di più sempre di più sempre di più i set remaster esatto cioè vanno all'indietro aggiungendo i set remaster però quindi fino ad arrivare a re turturavnica e da lì dichiarare ufficialmente il pioneer su arena e attivare la queue pioneer gli eventi pioneer e tutto il resto ok ok quindi e hanno detto la differenza tra historic e pioneer quando avranno entrambi lo stesso pool di carte sarà le anthology in historic ok ovvero l'historic diventerà il pioneer con le anthology una specie di pioneer 1.5 quindi non è intenzione di wizard mantenere historic e pioneer due formati diversi quello no no è intenzione l'intenzione allora all'inizio era historic è un fermaposto per il pioneer appena arriva il pioneer l'historic si leva dal cazzo la gente si è incazzata perché ha detto io ho speso dei soldi per le anthology stronzi e allora hanno detto ok continuiamo con le anthology e la differenza tra historic e pioneer saranno le anthology cioè ovviamente l'historic sarà un formato solo digitale di un pioneer plus ok pioneer plus sto plus ci deve essere porco dio perché se non ce lo metti questo cazzo di plus allora togli mi historic mi lavo il problema ma quindi aspetta il plus di historic in questo momento è jumpstart esatto ci rendiamo conto è solo jumpstart perché le anthology fanno caccare il cazzo si gioca 5 carte di tutte le anthology ma oh grande zio e comunque jumpstart è quello che paradossalmente ha dato il più grosso contributo a historic ha dato mux eh sì beh è tutto elfi anche è tutto elfi anche ascolta ma quindi dentro le anthology non metteranno mai carte precedenti al 2015 certo l'hanno già fatto eh infatti perché allora vogliono farlo diventare il pioneer di arena non la riesco a capire sta roba goli togli un attimo la testa dal culo allora lo ripeto allora anzi qua c'è 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 pioneer allora arriveremo a un punto in cui historic e pioneer avranno gli stessi set sì perché andando aggiungere set remaster esatto andando indietro arriveremo a re torturavnica perfetto e poi ci fermiamo ok quindi le carte di arena inizieranno da re torturavnica perché il set il set il formato più vecchio che sarà disponibile su arena sarà pioneer e che cazzo sarà uguale all'historic serve un cazzo eh non serve un cazzo no allora se rimane come è ok historic e pioneer avranno lo stesso pool di carte historic avrà le antologi in più quindi quindi saranno uguali quindi saranno uguali perché le antologi cioè chi se ne frega di giocare historic cioè dico ok voglio giocare gruel col bte mi faccio una partitina di historic ma chi se ne frega dammi un senso cioè dammi delle antologi vere dammi le bombe dammi la power 9 il punto Delmo il punto che io non capivo il punto che io non capivo era che è una cazzata carte a caso è una cazzata gigante buttiamo dentro cioè quindi facciamo due set identici che però in questo ha già buttato delle carte così a caso sì ma barba cioè barba ha detto escono mille antologi ok quante antologi escano l'anno una due una giusto no sono uscite quattro in quanti anni no di più dai sono due l'anno due l'anno due l'anno ok mettiamo che tra sei anni hanno messo tutto il pioneer tra sei anni vuol dire che sono uscite altre dodici antologi no ma lo metteranno prima ste cose cioè devono rinnovare i primi di sei anni no no più o meno il tempo l'hanno detto è quello perché ci vuole cioè escono due set rimaster l'anno sì ok per arrivare a torturavnica ce ne vuole allora se te ci metti se te dici ok quando uscirà il pioneer saranno uscite altre 12 antologi facciamo così se le fanno tutte tutte se di 12 antologi si gioca una carta per antologi vuol dire sono uscite 12 carte esatto per Insta per l'Historic cioè e te mi stai dicendo che per 40 carte diverse a me conviene giocare un formato invece di un altro no dai e saranno 250.000 monete d'oro 10 antologi cioè porca troia cioè nel senso allora lì Historic muore completamente perché a quel punto avrà senso giocare Pai in il suo arena perché ti può allenare per il cartaceo useless useless e lì entra l'idea mia originale del mettere i nerf e i buff in Historic in quanto unico solo formato non cartaceo ma io è difficile io continuo ma è stato difficile ma perché è difficile perché ti prendi in mano una carta che è baffata in Historic e te in Historic sai che costa 4 invece che 6 quando la gioca ti fai oh mio dio ma in Historic allora quanto devo pagare questo costa davvero stavolta costa 6 ma il mio consente intellettivo di 31 ce la fa capì che uno è un formato e uno è un altro ma porca il problema è che loro vogliono continuare a tenere il cartaceo e il virtuale legati allora potresti ributtare allora togli Historic io potresti ributtare dentro Occo con un 4 al posto dell'1 nel costo in colore sì va bene è solo in Historic chi se ne frega è in un formato che non esiste non esiste Historic io continuo a sottolineare la mia totale il mio totale disgusto per tutte le antologi cioè per me non c'è un'antologi che è stata bella però ci sono state delle carte che hanno trovato un po' più gioco di altre qualche completino qualche pezzettino da qua e di là nelle scorse antologi si ma fanno comunque cagare cioè porca misera mi fai 24 carte e ce n'è una bella ho capito mi hai rifatto Ugini allora scusa il tuo sbatto nel fare 23 carte brutte non è stato equivalente a quello di farne 23 belle cioè non potevi farmi delle carte belle cioè io mi aspettavo molto di più di questo antologio scusate una cosa allora facciamo finta di essere delle persone normali e che dicono scegliamo 24 carte da aggiungere e perché dobbiamo andare a prendere 24 carte di merda quello non capisco io ma anche lì questa cosa qua è perché la quella la facciamo mitica ma falle tutte uguali falle tutte purple tipo crono traslate che differenza tanto stai vendendo un pacchetto che differenza c'è tra mettere le carte useless mitiche e le carte useless comuni nessuna perché tanto io mi compro un pacchetto con tutte le carte già il fatto che tu le stai definendo comuni non comuni è una presa per il culo perché io non sto sbuttando niente quindi non sono mitiche orare o comuni o non comuni sto prendendo 24 carte in 4 per quindi non sono né comuni fa differenza dal punto di vista che posso usare cosa fa differenza dal punto di vista che posso usare le wildcard si ho capito sti cazzi va bene è giusto giusto ok allora ci sono 24 carte di merda che mi hai anche voluto per forza definire rare comuni non comuni mitiche sto cazzo e in più sono brutte cioè ti sei sbattuto a cercare le brutte porca merda me lo vedo il bar in ufficio la wizard io il bar in ufficio faremo un disastro licenziato immediatamente si 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 dio santo comunque per tornare al discorso dell'historic allora l'historic quando ci sarà il pioneer non lo giocherà più nessuno ok mi sono messo il cuore in pace io ho compreso perché anche io giocherò pioneer quando ci sarà pioneer perché ha senso semplicemente ha senso perché è un formato che esiste quindi che cazzo cambia a chi gioca i formati veri se historic c'ha i nerf i buff e le carte sono diverse non lo giochi che cazzo non ci giochi a historic se dici no guarda se leggo una carta che c'ha un testo diverso qui e di là vado in confusione totale non ci gioco in historic diventa un formato freak però è quello che ma almeno avrebbe un senso se non more quello che dico io è fare qualcosa che non lo faccia morire a questo punto ristampiamo le vanguard ma sti cazzi va bene qualcosa qualcosa in historic rendi giocabile tutti i set dell'universo parallelo quelli che stanno facendo ora l'historic diventa un pappone di lord of the rings power ranger e walking dead chi cazzo se ne frega va bene è una ridicolata è una clown fiesta ma almeno è diverso da pioneer ma almeno è diverso da pioneer perché tenere historic allora smetti di fare anthology e dichiara ragazzi giocate a historic finché si chiama historic perché le anthology finiscono verranno tolte e diventerà pioneer ok lo accetto mi sta bene preferisco occupa meno spazio nella già poco capibile play blade se c'è un useless non mettiamo in dubbio che ci sia chi le gioca le carte delle anthology più che altro è che si sta facendo un ragionamento in base a l'impatto che hanno viene fuori il pappone sul fatto che adesso for fun for fun ho capito for fun se parliamo for fun possiamo allora a questo punto se parliamo di for fun rifammi black lotus così for fun voto è quello che dico io è quello che dico io io berru è esattamente quello che dico io storic storic pioneer sono bellissimi posso for fun for fun posso tirare un ancestral recall con un ancestral recall che cazzo perché mi devo for fun con un goblin quello che dico quello che dice anche nicodemus in chat togli storic e vaffanculo se me lo devi se dici lo devo fare ultra bilanciato non deve cambiare niente perché così c'ha soltanto nove carte diverse dal pioneer allora a questo punto ha senso davvero mettiamo le tere doppie mettiamo trono mettiamo k tanto è for fun riempilo di merda esatto riempilo di heart over power hanno sbagliato sbanna tutto tanto al momento che arriva pioneer non ci sarà più un torneo non ci sarà più ptq non ci sarà più un arena open storica non ci sarà più un cazzo storica quando arriva pioneer adesso lo dico anche alla chat quando non so se vi è capitato a te delmo non so se quando ti mettono l'eventino di momir momir mai fa eh mai mai fa non l'hai fatto vabbè ok che ti sei perso se ti va di farlo ci sono gli script cioè io una volta a 7 mi è sceso grizzly brand quindi vuol dire che tu nel gioco ce l'hai già si mettimelo fammi giocare grizzly brand puttana merda quello esatto ora non possono è fermo ora non possono perché historic essendo un formato reale di magic in quanto il magic reale in questo momento è arena perché il cartaceo è fermo con historic devono fare i ptq e i pt e gli arena open historic in questo momento ha un formato competitivo viene usato ai mondiali il prossimo il prossimo pro tour sarà sarà il girone standard il girone historic cioè in questo momento historic ha un formato competitivo quando arriverà il pioneer su arena l'historic non sarà più un formato competitivo perché il formato competitivo sarà il pioneer per fare i tornei per fare gli arena open per fare gli mc i mt che escono il qualifier e tutto il resto quando succederà questa cosa che historic non è più competitivo allora lo puoi riempire di merda e farci i nerfi i buff il signore degli anelli chi se ne frega perché da quel punto diventa solo una cosa che esiste solo su arena e solo for fun giusto giusto a quel punto lì quello sto dicendo io a quel punto lì va bene a quel punto lì e mi dai ragione quindi mi stavi dando ragione nel senso a quel punto lì quando io dico metteteci la power 9 va bene perché tanto è limitato lì stiamo parlando in termini diversi ma ci stiamo cioè io ti sto dando ragione il concetto è che io non capisco perché ti vogliono mettere delle carte brutte ok per creare hype e tutto quello che vuoi quando però ce ne hai delle altre che potrebbero essere tra virgolette brutte uguali ma più appetibili cioè dal momento in cui tu sai che certe carte comunque o stai calcolando che certe carte non hanno impatto mettile allora a questo punto dammi Grislebrand ce l'hai già l'hai già messo sul gioco dammi Grislebrand posso sforzarmi di giocare con Grislebrand ricordiamo non c'è Grislebrand però abbiamo questa carta di merda qua ecco rispondo un attimo a Forti to Nine perché è il punto esatto della situazione dove cazzo è eccolo guardalo allora ma perché dobbiamo per forza salvare Historic per me è solo un formato di transizione questa conta come Grislebrand ma la gente che ha speso 4000 gemme per 4 antologi ovvero 16000 gemme si è comprato questa ha comprato cioè la gente che ha speso 16000 gemme è gente che ha buttato via 16000 gemme se Historic finisse domani invece non finirà domani finirà tra 10 antologi quindi la gente avrà buttato via 160.000 gemme Cina mi assumo la responsabilità buttate via per i soldi sono stato io a proporre Jace non è colpa del Delmo comunque avete visto Triunfa Reckoning ci siamo comprati cioè no vi siete ci sono comprati Triunfa Reckoning quel punto lì cazzo non sarà più divertente Grislebrand ah sì io sono d'accordo che comunque non è useless 100 master of the fields cioè queste arti qui esatto piuttosto arti che fanno cose che fanno cose di magic è anche più divertente oppure ti fanno sforzare a farle delle cose dici è una carta bella la gente a spendere 4000 gemme come se ti costringono se in questo momento il formato è competitivo eh vedi ecco è infatti testo sti cazzi se nessuno costringe la gente a spendere 4000 gemme è vero non è una costrizione formato è competitivo non è una costrizione però eh la gente per provare prova qualsiasi cosa quindi vuol dire che ci stai marciando ci stai marciando su quella cosa lì butto delle carte a caso tanto c'è sempre qualcuno che le compra cioè dal punto di vista di marketing magari funziona dal punto di vista etico probabilmente funziona un po' meno tu mi stai dicendo sto mettendo delle carte di merda tanto qualcuno me le compra comunque per quanto è leggermente di cattivo gusto se l'obiettivo è quello di andare a ritroso finché non diventa pioneer cioè le antologi non trovo il senso nel farle antologi e poi un'altra cosa bravo l'altro punto perché mi ristampi tutto Amoncat salti delle carte perché mi ristampi tutto Calades salti delle carte e poi nell'antologi mi metti delle carte di Amoncat e di Calades stronzo e anche perché se tu vuoi fare pioneer già il fatto che nei remastered non ci sono tutte le carte rimarranno comunque due formati diversi dal cartaccio al virtuale per forza non ci sono tutte le carte vabbè stanno mettendo carte che hanno tolto le carte e non hanno visto il gioco e te le hanno messe nelle antologi sì però sì sono le piti di troia esatto ma che sensuale perché il gatto di Amoncat la prima carta che abbiamo analizzato e se tra dieci anni esce una carta che steccia con una carta che non era cagata nel 2015 che però non essendo stata cagata su Arena non c'era faccia la story per mettere dentro l'antologi per metterla dentro cioè è un po' un casino sta cosa wow cioè se tu vuoi farmi diventare story pioneer devo avere tutte le carte di pioneer cioè non ha senso se no sì perché poi dopo ti trovi dei gap sulle 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 edizioni eh esatto tu dici ah ma in pioneer ci sono delle carte di Amoncat o di Kaladesh che però non ci sono perché in real ce n'erano di più e qua non me le hanno ridate secondo me non ha boh non ha non ha senso no non ci sono tutte secondo me giusto adesso anche con l'antologi faranno una pioneer antologi dove metteranno tutte le carte che mancano delle remaster al modico prezzo di 65.000 gem faranno un'altra roba alla jumpstart in cui mettono dentro un altro sbrozzo di carte e noi ci rovineremo a fare le partitine in draft di jumpstart a 2.000 gem l'una per prendere tutte le terre foil ma infatti rispondo a stefano infatti secondo me per come si sta sviluppando il gioco con la rapidità con cui si risolvono i formati con cui si sta sviluppando si sta sviluppando arena c'è un piano a 6 anni a 5 anni è infinito come fai a fare dei piani così è lì che sono rimango perplezzo infatti secondo me se non nell'arco di 6 anni ti aggiungono devono per forza con la velocità di risoluzione dei meta e dei formati tutto quanto nell'arco di 6 non è che fra 6 anni mettono piani cambieranno tante cose le cambieranno prima però adesso guarda io ragazzi non voglio scadere nel discorso ci succhiano i soldi non voglio essere così demagogico vedi Dante perché ho i soldi perché non li ho spesi per prendere le antologi però sì più che altro sono degli sviluppi che non lo so mi sembrano ma mi sembrano ma vedremo vedremo cos'è io compro tutte le foil non ho più non ho più un gold quindi aspetta andando indietro qual è il prossimo remastered prima di Kaladesh c'è Time Spire a remastered che però è solo cartaceo non è la sua arena è solo cartaceo ma non mi ricordo prima di Kaladesh cosa c'era prima di Kaladesh? va a vedere su Scryfall era cosa? Innistrad no 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 è cosa? c'è il coso la la linea delle espansioni sì sì apri vai su cosa? Innistrad era Innistrad? Innistrad no perché l'ho giocato anch'io non c'era Canon prima aspetta aspetta vabbè vai qua in storica antolo c4 remastered ora andando indietro Dominaria Ixalan Amoncat Kaladesh oh sì Shadow of Innistrad faranno Innistrad remaster con la fusione esatto la seconda Innistrad che sarà la fusione tra Ombre e Luna poi c'è battaglia per Zendikar poi Tarkir Teros e Ravnica ah io mi ricordavo Innistrad quella lì beh alla fine sono 1 2 3 4 5 5 7 remastered 5 remastered perché remastered fanno tutto il blocco insieme beh non sono cioè non sono poi tanti se ne fai uscire cosa ne escono? 2 all'anno? quanti ne escono di remastered? ma quest'anno ne sono uscite 2 ah in 2 anni e mezzo quindi abbiamo abbiamo Pioneer sì infatti secondo me Pioner speriamo di no perché spero non faccio tutto Tarkir ma anche lì Pioner con dentro Lurrus allora se ne fanno se ne fanno 2 all'anno se ne fanno 2 all'anno il gap viene coperto in 2 anni e mezzo e magari il guys di Sun Traft lo giochi in 4 ma sì ovvio non in 6 non in 6 se fanno 2 remastered all'anno il gap in 2 anni e mezzo è coperto ma quello che dico io spero non facciano veramente tipo tutto Tarkir in 1 ah ma tanto ne fanno questi 2 qua remastered hanno tagliato un terzo delle carte quindi anche lì Tarkir possono farlo un unico Tarkir remastered tanto ne tagliano tagliano le carte buffe che cazzo verrà no aspetta comunque arriva Snappy è la prima Innistradè ragazzi è la seconda Innistradè arriva Snappy in historic la prossima remastered cos'è che dici? arriva Snappy no no non è la prima Innistrad infatti là c'è scritta non è la prima Innistradè no le carte le carte che state citando sono nella prima Innistrad non è in Pioneer no aspetta no no non è in Pioneer sì perché se parte da Return to Ravnica Innistrad è prima quindi Lilian of the Vails Gaster Mage Geist of St. Raff ci sono due Innistrad due cicli di Innistrad la prima Innistrad è dove c'è Liliana dove c'è Deathrite Shaman dove c'è Huntmaster of the Feds dove c'è Geist of St. Raff Delver quelle lì quella è un'altra che era quella forte Falkenra non c'è in Pioneer no è in Modern no perché in Shadow of the Innistrad c'è c'è l'altra quella quella di Trabenix Spector c'era c'era Avacin quello Bifronte ecco quella lì non l'abbiamo giocata è quella che abbiamo fatto solo il doppio e basta c'è Forte di quella c'è 3-2-2 che investiga come si chiama sì quella verde sì non mi ricordo come si chiama ho capito io Cina quella lì non l'abbiamo giocata è Collective Brutality cazzo c'è c'è Emrakul Piccolo c'è Arling Kord il Plainswalker c'è Grin c'è Gisela c'è Gisela con Bruna che si fondono yeah che senza Bolt sto pensando c'era in quel meta lì c'era UV Flash c'era che giocava Innis c'era che giocava Avacyn c'è l'Emrakul Brut scusa apri un attimo Shadow of Innistrad per vedere cosa potrebbe arrivare in Historic che è forte Brunella sì no Gisela Brunella Brisela Brunella Brunella i Plainswalker che flippavano da creatura in che edizione erano erano Origins no c'erano anche in Innistrad c'era il Gar Liliana Jace tutti quelli da giovane allora i Plainswalker che si flippavano sono in più di un set anche quelli c'erano c'erano dei dei set che flippavano anche ecco metti rare e mitiche metti rare e mitiche solo rare e mitiche niente utility rare e mitiche rare e mitiche ah è qua eccole qua ecco c'era Avacin Arlinkord anzi fai prima vabbè era uguale basta in ordine di prezzo le metteva comunque Brunella ecco la vai piano vai piano vai piano dove sei se c'era in fondo siamo qua torna su ah più di così non si va allora c'è c'è il Vindicate eh il Vindicate sarebbe furtino Vindicate è bello anche perché è esilia ed è instant anche se ti fa tre pizze però forte quella era forte Avacin è fortissima Avacin Arlinkord non ha mai visto gioco neanche in standard Avacin porca miseria c'era flash fortissimo c'era il Bedlam Reveller mi ricordo che aveva c'era una tech stronza con quello lì vabbè carta questa 8 comunque Arlink c'era un archetipo che vinceva perché costa uno meno per ogni istante strega nel tuo cimitero si poi c'era Brissette conviene togliere il simbolo del tribale o metterlo da una parte aspetta che facciamo allora Collective Brutality carta fuori di testa quindi quella si giocherà sicuramente ok e ci sarà penso ah quella lì Collective Brutality molto forte si me la ricordo poi c'era terre doppie che cos'erano quelle lì le doppie le doppie le doppie le doppie dovevi rivelare una delle due terre base per giocarla stappata eh oddio ora c'è talmente tante doppie c'è di meglio anche perché dice non base quindi tu puoi rivelare anche un trioma una shock sì ma secondo me c'è la mana base storica già già ben affleck no questa è base base enter the battlefield you may reveal an island or swamp card from your hand sì devi rivelare un'isola o palude ma non dice base ah sì no puoi rivelare il trioma oh Collective Defiance non è male come cartina che cosa? Collective Defiance brutality ovviamente fuori di testa ma Defiance non è male ma sì sicuramente ci sono ci potrebbero essere delle cose che potrebbero ah c'è questo che l'hanno già ristampato vedi anche qua alcune carte le hanno già ristampate eh beh ovviamente non verranno inserite nella rimasta ti riamo dentro il Cina? a voglia volentieri Cina ci sei? vieni dentro che le commentiamo insieme voglio di venire eh c'è Declaration in stone siete contenti? un'altra volta anche per là non verrà inserita scendi scendi rivo boh mi viene in mente niente a vedere che certi video qualcosa che può essere buono eh c'è l'emracle piccolo c'è l'emracle questo qui qual'è l'emracle ah l'emracle eh no quello che faceva mind mind control Delmo tu che hai l'altro canale aperto guarda se entra sul discord Cina che lo facciamo entrare si ha detto che arriva qua un'altra terra doppia vabbè a terra doppia c'è tutto il ciclo si c'era il gorger veniva giocato ma ciao bel facciotto c'è il Cina? si e c'è l'eco grande Cina c'è Gise Geralfo aspetta aspetta eh Gise Geralf ferma un po' che bello Gise Geralf c'è ancora eco? no ha un senso no no ora no ah ok ha un senso vabbè però zombie non è una meccanica al momento no ah certo che mancano tutti quelli che entrano gratis del cimitero eh Price Amalgam però c'è ah il Greenfly era vero si giocava questo ecco Gisela se non c'è Bolt Gisela era forte ok c'è 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 Frostbite però harmless offering ce l'hanno già data c'è harmless offering si esatto si esatto forse c'è più rova più che in Eldritch Moon c'è più rova in Shadows qua ci sono anche quelle dei Shadows vabbè alcune di queste carte ah tu dici questa Liliana qui eh Liliana Hope ah il Mausoleum ce l'abbiamo già in Historic il Mausoleum Wanderer che belle queste carte cazzo le vorrei tutte lo Spettro no vero ma anche adesso no non credo e veniva giocato in Band Spirit in Modern quello lì me lo ricordo quello è forte quello è forte sì il Wanderer ma il Wanderer è forte in Spirit sì Spirit adesso non è giocatissimo però qualcuno se lo azzarda anche Spirit l'ho visto comunque dai suoi fastidi sì sì cazzo Spirit prende sia questo che lo Spell Dweller eh lo Spell Dweller scusate ma in questa in questa Spell Dweller era forte sono tutte duprie ah qui c'è la Nairi che andava a tutorare Emrakul c'è la Nairi che va a prendere Emrakul che se escano insieme non è male ah Odrik è vero non lo ricordo Odrik ma non c'era anche quella carta ah c'è Rattocene che però c'è già non c'era quella carta il Selfless Spirit ecco Relentless Dead è una bella carta di me Selfless Spirit c'è già in in Historic o no no non c'è forse sono comuni quelle che ah ecco lo Spell Dweller lo Spell Dweller lo Spell Dweller no ma infatti Bunt Spirit con Coco in mod viene fuori con questa espansione esatto quindi Bunt Spirit diventa forte in Historic non mi ricordo come si chiamava sì che bella questa mi viene Manfield non era Manfield che l'aveva portato era forte con Coco eh Spirit perché tutti gli Spirit no ma ora ora non è ora non è tier è tipo tier 3 però perché gli manca Spell Dweller e il drop a 1 sì ah Taglia è vero quella Taglia lì poi c'è Tamio poi c'è Tamia eccolo qua il Thaler Strucker Thing in the Ice eh lo dicevo Thaler Strucker secondo me è forte anche la Thing in the Ice veniva a giocare eh la cosa nel cazzo non è male Thing che quando girava bounceava tutto sì qualche contro la giocava mi ricordo con le Fini eh con Thing in the Ice torna Fenice esatto ah il Ditto il Monster anche qualcuno si vedeva eh io qua non giocavo già più mi ricordo solo certe carte perché le ho viste giocare un po' nei cubi anche queste ce l'abbiamo eccolo qua Traverse per il mio per il mio Shadow chi è Traverse qual è Traverse ah Traverse di Uldelwald su la Spella 1 verde questa qui questa è una carte di Uldel la storia c'è la delirium qua come meccanica ah questo è l'albero cattivo che c'era già in Lorwin che in Lorwin c'era uno 013 verde che faceva cose ah è vero è lo stesso è vero inizio questa è una chicca di lore ah sì è giusto il nome di Amarkard Amarkard eh c'era uno 013 di lore a me piaceva tantissimo in draft è in passivo per la carta questo che cazzo fa un'altra mitica no questa non me la ricordo Ulrich Krallenhorid boh non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so scendì in altra riga prima un live un carico che battlefield ah che si trasformava sì me la ricordo esatto che diventava quel demone sì me la ricordo dal flying lifeline ah minchia è vero diventa il mostro di Vega sì sì quello è bello quello è bello quello è un ottimo finisher prima secondo eh però devi mettere tante perine ci vorrebbe l'engine soul five creators o il coso lo scoiattolo però questo qua che cazzo ah figa te dici no aspetta scusa questa terra qui anche se la creatura è nera non te ne frega niente questa terra qui in un mono bianco col clarion che fa i pippoli col clarion spirit che fa i pippoli ma sì ma queste sono tutte che di quinto fa il 9-7 no ma non era inflippabile questa qualcuno la giocava no ma questa sarebbe forte sarà forte cioè nel senso è giocabile eh sì il claim te la prende e ti dà uno schiaffone che cos'è che è flying eh ma è rapida con quella chiudi no non è come marit leg che sta lì apprendile sì sì questa se la giochi bene e gli giri intorno a claim the firstborn no questa chiudi questo quando la tiri è perché chiudi sì che è indestruttibile e hast finite comunque ce ne sono un sacco tante forti sì finite ce ne sono ah ma c'è anche che cosa ne pensi ecco le genali più o meno tutto quello che si è detto oggi sono oggi sono in gran pante d'accordo con voi cioè se vogliono fare due formati separati come dici tu Delmo allora dai un'identità forte all'istoria oppure come dici tu o loro lo sbagli oh oh grandi abbiamo lord oh amore figa non vuoi entrare anche tu di due cagate lo sai anche tu no intanto è tutto codificato no sì sì c'è loto codificato c'è già c'è già c'è già qualche mox c'è già timewalk loto loto no no sbrocca cosa ma ormai se vuole entrare anche Luca eh infatti sì sì se vuole entrare anche Luca che no dopo sbrocca ma allora ehm però Jace no eh raga non ti piace Jace in i stori Cina tu hai paura di Jace hai visto la mia faccia boogie man hai visto la mia faccia io ho Jace perché io ho visto il primo Jace il primo Jace è stato tre mesi bisfrattato da tutti dicendo che schifo fa schifo turno 4 non fai niente fai brainstorm però raga è una carta che poi è come un player in più cioè fa talmente tante cose che è come un player in più no ma infatti turno 4 dopo ti fa company sì ma quale control player scemo trova turno 4 dannato sexy Sì lo fai a 6 lo fai almeno a 6 con negate aperto io sono assolutamente d'accordo con te questi ragazzi non si ricordano di quando no no ma perché quando c'è un trauma molto grosso poi dopo tendi a dimenticarlo per costruzione mentale nel senso non hai memoria del dolore che provi perché sennò impazziresti come un parto no è il contrario in realtà ti ricordi solo il dolore e questi ragazzi si sono dimenticati per me invece bravo amico valeva 5 a 5 no però stavo sempre sui 6-7 euro mi sentite Luca sì caro passato per un saluto mitici ciao Luca hai fatto bene Luca grazie come? parla di quanto stanno deludendo le antologi e di quanto sarà poco diverso l'historic dal pioneer quando arriverà il pioneer di conseguenza verrà abbandonato sì perché ha dato una bella differenza però sì se vanno avanti con le antologi così il pioneer e gli storici non saranno molto diversi ah oi da me sembra che qua con le antologi stiano continuando a a boh non lo so prima ah scusa Dante l'ho detto chiaramente io non boh per me si stanno sforzando a metterci delle carte brutte cioè è più facile metterci delle carte belle è più facile metterci delle carte belle invece non lo fanno ha tirato dentro Dante così così boh io speravo tanto nell'heritage druid in questa antologi bello porca così così Elfi diventava ancora più forte no ma adesso Elfi è il cugino un po' più brutto di di Goblin Elfi al momento quindi te secondo te è più forte Goblin ancora di Elfi sì ma certamente anche secondo me ci vorrebbe Kira ora andate in qualcuno a chiamare Kira si fa si è avvicinato Elfi ma gli serviva quella spinta in più per essere veramente forte diciamo che Goblin alla fine è un one card code diciamo secondo voi non ci stava un bel parco di utility vecchio stile tipo Bolt Esilio Malalik Bolt Bolt non deve essere neanche il modern però rispetto a Declaration in Stone forse Patto Exile potevamo mettere diciamo che come dici tu deve avere un'identità cioè non può avere non è la stessa cosa patto di primo non è una buona giocata non me lo Bolt faccia non ho ragione no vabbè Bolt sul pezzo di Hop è buono dai ma c'è Frostbite Vabbè Delmo vuole Bolt e questo l'abbiamo capito ah ti metto cazzo di Bolt perché però c'è historic burn white burn red è tanto così da essere tier 1 da tanto così anche da Monastery esatto invece di Goblin cazzo piscioli quello che c'è nell'antorio ma Goblin Guide se non volevano rischiare Goblin Guide esatto c'è Wayward Ward Beast lì scusa io adesso allora fa un po' ridere probabilmente l'avrà andato in team a qualcuno a qualcuno che non è cioè fortissimo no che magari ha paura perché non è la licenza c'era il tizio doveva inserire Goblin Guide ma ha scritto Goblin G e prima di Guide è venuta per l'altra carta e poi ha già premuto un V e ha fatto ops è ormai è andato è ormai nell'antorio c'è quello visto che avete state parlando di questa cosa qua volevo agganciarmi a quello che ha detto Luca che si aspettava un elfo forte per rafforzare un archetipo io per come la penso io se fanno un antologi di 24 carte io preferirei che mi mettessero delle carte che vanno a rafforzare cioè a creare degli archetipi nuovi cioè che cosa perché ha bisogno un mazzo già collaudato e già forte come Goblin di qualcosa di ancora più forte da metterci dentro perché così lo giocano ancora più persone vabbè ma Goblin Guide non va in Goblin era Elf in generale metti un elfo forte perché c'è già Elf che è forte o metti un un Rogue forte perché c'è già Rogue che è forte che ha senso almeno è giocato almeno dai un senso all'antologi proprio lo devi fare se no non la fai nemmeno secondo me tanto vale che metti tre Merfolk forti e fai diventare nuovamente forte una realtà come Merfolk va bene quello dicevo gli dei tramutanti gli fai un'antologi di tramutanti ecco cioè è una cosa così vai a creare qualcosa d'altro perché se no c'è una nuova identità giusto giusto EdageDroid era per creare un nuovo mazzo Tiger 1 cioè non era per cioè Elf con Caldame si è diventato carino ma è diventato sicuramente Tiger 1 a mio parere beh non è diventato Tiger 1 però i numeri lo stanno mettendo molto in alto ma soprattutto quello che mi chiedo io è perché nel fin nessuno gioca il rosso e gioca a Bainfire perché tu metteresti il rosso anche nella colazione ma non per Embercliffe perché io voglio giocare il full perché devi giocare Bainfire quando c'è Crater of Behemoth perché non si so quando c'è L'Osauro che fa Crater of Behemoth ma costa 1 esatto ma è bloccabile è bloccabile è tutto 5-5 c'è anche quello nuovo che fa che da detta eh anche c'è l'altro giorno che c'era uno io avevo io avevo 6 angeli ed ero a 60 e lui aveva tipo 12 pedine mi ha ucciso un colpo con Allosauro con Allosauro e quell'altro che da Destac però tipo per esempio Goblin contro Sacrifice speranza di fare un Moxus che chiude Elfie contro Sacrifice è 100-0 cioè Elfie non può vincere contro Sacrifice ho capito c'è un matchup sfavorevole eh vabbè ma come fai a giocare a un mazzo che 100% perde però ti posso dare un parere questa roba qua è vera post side perché post side Elfie non può mai vincere mai soprattutto se magari giochi pure Witch Vengeance però main deck se non vedi diavolo non vinci no diamine il game 1 è un conto ma il game 2 c'è G1 se non vedi diavolo non puoi vincere però io ancora non metto Witch Vengeance side ma forse dovrei mettere Witch Vengeance perché io sono un po' troppo affezionato al fatto che io vorrei non mettere carte che devo togliere Giganta però mi sa che Giganta dici che puoi reggere dico anche se non vedi devil se parti di claim priest ce la puoi fare voi cosa state giocando adesso io giunto sacrifice in storia non ne dubitavamo io sto giocando Elfie tu avresti detto quando io gioco un passo non aggro no no infatti non mi aspettavo che giocassi Abzan Control però nel senso Cina gioca Elfie e te Luca io prima di raid Harvey ho fatto le mie partite con Aure e Sacrifice Orzov Aure quindi sì ho provato un po' Orzov Aure ma un po' Sacrifice tu nonostante la versione Azorius abbia fixato con la terra nuova trovi più forte Orzov in Aura adesso ho provato Orzov più che altro perché non ho mai provato quella versione non peraltro mentre quella bianco-blu l'ho provata molto noi siamo molto affezionati la terra bianco-blu potrebbe rendere più interessante diciamo la versione precedente però volevo farmi un'idea e come ti sembra come ti è sembrato mi è sembrato abbastanza forte però non ho capito se sia effettivamente meglio di quella bianco-blu di quella bianco-blu aspetta che ci evidenziano due messaggi non si gioca Bimoti in Elfi perché questo Elfi non fa tanto mana da giocarlo lo spiega bene anche Akira nei suoi video adesso per esempio ho fatto anche 20 settimane in un turno e due volte l'attivazione del più 2 più 2 è detto in un tanto sai non ci dice solo per dire è meglio di Benfire però probabilmente non serve neanche Benfire cioè in questo in questo momento nel best of 3 di Mythico di Storic dell'ultima settimana comunque Monogreen è considerato un Tire One cioè è al quinto posto però con un 58 pari a Selesnya e discosta solo di un 4% del John Sacrifice comunque John Sacrifice alla fine con Angels è più o meno uguale dai solo che cioè più o meno soffrono le stesse cose più o meno dai si soffrono le vrate soffrono della merda di Angels però dai gli Elfi sono più belli degli Angeli gli Angeli sono anche la terra modale bianca-blu il pathway ci chiedono dalla chat qual è la terra che diciamo ma al championship probabilmente ci saranno solo Sacrifice e Control con Yasharn UV Bunt chiede Simon Battle grande ma infatti i Jund si stanno adattando per battere Yasharn tipo con 4 Noshu's Grasp di cui magari hai anche 2 main eh per forza la legge che ho provato oggi ho provato 2 maestro un pulse main deck comunque la consigli a parte dopo dobbiamo fare il nostro incontrino in aggiunta alle 4 Grasp Jund Orzov Bunt Selesnia ed Elfi sono tutti che si discostano di un 4% e viaggiano tra il 63 e il 58 di win rate quindi come realtà esistono a prescindere dal fatto che possano essere più o meno apprezzati cioè questi sono i 5 mazzi più forti dopo che cosa c'è c'è un Grul basico non Jund al 57 c'è Azorius al 57 siamo in best of 3 sì siamo in best of 3 l'harder solo mitico di Untappet dell'ultima settimana questi sono le statistiche queste qua quindi io per ora non credo molto nella ladder almeno fino a che non c'era almeno il primo evento grosso non non mi c'è la fine settimana perché in questa settimana c'è gli scc storic al quale io porterò Jund ovviamente Jund ci sta nel mazzo più forte non non mono blue spiriti bello non porti pensavamo no portavo il mono rosso splash nero call of the dead dweller io se fossi te porterei il mono u spiriti con 4 amber cleave per sicurezza death shadow con amber cleave no allora la ladder è sempre un discorso diverso dei tornei però per quelli che fanno ladder basta cioè i massi che si incontrano sono quelli lì penso che settimana prossima cambierà molto per i tornei o per la ladder no perché la ladder in conseguenza al fatto che c'è stato i tornei quello la ladder segue i risultati i tornei o i streamer ma voi raga di questa di questa antology noi abbiamo già detto la nostra voi avete visto delle carte che noi abbiamo di cui noi abbiamo parlato che fanno schifo che invece vi piacciono viceversa avete già parlato dell'artefatto tremana raro come c'è l'artefatto tremana che faceva mazzo combo in standard ho provato a giocarlo in historic però ho provato solo una serata e basta non mi ha convinto del tutto però magari qualcuno di voi l'ha visto funzionare meglio va più tunato quel mazzo lì secondo me va fatto un po' meglio diciamo che rispetto a un paradox è molto più fluido giocare paradox noi stasera dicevamo che non ha avuto per niente un impatto quest'antology sul meta historic per ora a distanza di una settimana ho capito c'è una carta che secondo me può avere un impatto non da poco che è il sasso a due mana sasso a due mana sasso a due mana l'ho detto la si si in teoria allora il mazzo che giocava già prima che era il mazzo colorless ramp o qualcuno che splashava nero per extinction event si era un mazzo che aveva un grosso difetto aveva solo otto sassi a due mana prima ed era tutte le volte che non aprivi la mano senza un sasso a due mana tipo dovevi molligare e quando non è solo otto ma lì è abbastanza spesso ora che nei dodici in teoria dovrebbe essere un mazzo che ha un buon matchup sia contro sacrifice che contro i mazzi che provano a battere sacrifice ovviamente ha un matchup pessimo contro aura e goblin però contro il resto del meta il fatto che gli abbiano aggiunto col stil art secondo me potrebbe renderlo effettivamente un mazzo serio io infatti l'ho visto giocare molto di più anche se te Delmo hai detto che non ne hai visti pochi io vabbè che ho giocato due giorni a due giorni è una scelta di metà game si ti aspetta i tanti mazzi non aggro vada panda ti rispondo subito se l'esnia coco è stato surclassato da angeli cioè se l'esnia coco era prima un mazzo di carte miste ora è diventato tribale non ha senso non giocare angeli se giochi se l'esnia si perché fa la stessa cosa ma la fa meglio però angeli non gioca elfo non gioca maniera di rampare prima company no non gioca elfo è l'unica con l'unica differente che ne pensate dell'idea che con l'avvento di pioneer utilizzeranno historic per portare il modern su arena nei prossimi anni che dettagli no 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 l'hanno detto si fermano a pioneer non è intenzione di wizard portare modern su arena al momento già pioneer sarà una bella svolta mi continuano tra l'altro a posticiparlo chissà quando arriverà però si si torna prima a tromban discoteca e a gioca a scoba che tra l'altro sarebbe sarebbe anche ora perché basta basta guardarci tra di noi e andare a giocare le figurine sono un po' rotto il cazzo sinceramente no a parte se entrambi si mostra il foglio di vaccino avvenuto e tutto il resto se vuoi ridere io a maggio devo andare in Cina ah pensavo io a maggio devo scopare ho detto poi ho preso l'appuntamento proprio quel giorno lì eh proprio a maggio anche l'ora ha già scelto ha già scelto anche l'orario eh no si ho preso il biglietto di andare lì per lavoro quindi allora vedendo che comunque la conversazione sta andando verso quei lì direi salutiamo gli amici di youtube grazie mille ci vediamo no resta resta salutiamo gli amici di youtube ci vediamo alla prossima settimana con ospite quindi pare eh spoiler pare che si sia un ospite pare che prossima settimana torniamo con un ospite ospiti veri non gli amici e quindi ora salutiamo gli amici di youtube ci vediamo la prossima settimana è stato sempre un piacere seguiti su tutti i nostri canali anche i canali di loro perché siamo tutti amici ci vogliamo bene e alla prossima puntata ciao ciao ragazzi ciao ragazzi ciao raga grazie no vabbè ciao 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 Grazie.